In questa sessione vedremo come il modello di business, da un lato abbiamo appena visto come ci aiuti a mappare un modello esistente, a creare qualcosa o da zero, se fosse un progetto di startup, o a fare una fotografia del nostro business attuale. La cosa interessante è diventare riuscire, o meglio, essere capaci o avere gli strumenti per poter innovare il nostro modello di business. Parlando di innovazione, diciamo, mi è dovuto, tra virgolette, quello di dover fare qualche precisazione sul che cosa significhi innovazione, o quantomeno definire un po' un perimetro entro il quale noi concepiamo questa parola, che è stata negli anni usata e abusata. Per noi innovazione significa far sì che le cose succedano, far sì che succedano in modo nuovo. Per far questo, a volte, la tecnologia può essere un qualcosa di interessante, ma per noi non è un fattore fondamentale. La tecnologia è un fattore abilitante. L'innovazione, quella buona, tra virgolette, è l'innovazione che riesce a impattare in modo concreto sul come generare valore, questa parola è importantissima, o per i nostri clienti, se è un'innovazione che impatta sui nostri clienti, o anche sull'interno della nostra azienda, perché scopriremo che si può fare assolutamente innovazione anche sulla componente interna della nostra azienda. Questo è ciò che vi voglio dare come, diciamo, come perimetro iniziale. E qui parte la prima provocazione, cioè innovare non significa mettere più tecnologia. E di solito, quando faccio questa affermazione, vengo preso un po' come eretico, nel senso che, ma come? No, l'innovazione è tecnologia. Ma in realtà, mi, nel senso che l'innovazione, aiuta. Ma se noi ci limitiamo a percepire la tecnologia come innovazione, corriamo un grosso rischio, che è quello che, diciamo, vediamo, purtroppo, spesso e volentieri, nel mondo delle aziende e del mercato. Quindi quel desiderio push di buttare a tutti i costi una tecnologia sul mercato, perché aziende, soprattutto ingegneri come noi, si innamorano di alcune soluzioni e desiderano a tutti i costi poi spingere i colleghi del marketing e del sales per dire, ecco, questo è il nuovo prodotto super figo con questa grande tecnologia, adesso va venduto. Vi racconto questa storia, la storia di Samsung con questo frigo intelligente, lanciato nel 2015, con un computer integrato, è in grado di darci le ricette dei prodotti, o meglio, delle ricette che ci consentano di ottimizzare i prodotti che abbiamo nel frigorifero. Io questo talk, credo di averlo fatto sommato, 3-4 mila persone, chiedo sempre per alzata di mano, qualcuno di voi ha a casa questo frigorifero? Mi hanno risposto in due di sì. Uno usa questo computerino per far girare Spotify e l'altro non lo usa. E quindi dov'è la vera innovazione? Dov'è stato creato il valore? La cosa ancora più divertente è che se facciamo un salto indietro di qualche anno, nel 1969, Honeywell propone un frigo intelligente in grado di offrire delle ricette in funzione del contenuto. E qui la reazione potrebbe essere, ehi, ma scusami, come? Dal 69 ad oggi non avete ancora capito che se non c'è un'infrastruttura, e quindi un qualcosa che consenta al frigorifero di sapere in autonomia cosa c'è dentro e quanto c'è dentro il brick di latte. È diverso sapere cosa c'è nel frigo in termini di item, di codice, litro di latte, e quanto latte c'è dentro oggettivamente nel brick. Perché in quel caso cambia la ricetta, no? Ma la cosa ancora più interessante è che ogni dieci anni circa le aziende dell'elettrodomestico arrivano con il frigo intelligente in grado di offrire la ricetta in funzione del contenuto. Ed è qui che io voglio la faccia stupita da eretico, perché ma come? Ma davvero? E credetemi, quello di Samsung è un caso divertente, interessante, poverini, non per i manager che hanno tentato di fare questo progetto, ma non è l'unico. Se nel 2013 andavate a leggere qualsiasi report di Gartner, di Accenture, di queste grandi corporate che fanno previsioni, oggi dovremmo avere tutti indosso degli oggetti di questo tipo, dei Google Glasses, che invece non hanno assolutamente penetrato nessun tipo di mercato. Qualcosa in ambito logistico, ma veramente poco, marginale. Parlando, tra virgolette, male di Google per essere super partes, anche Apple ovviamente ha i suoi scheletri nell'armadio. Negli anni 90, quando ancora non c'erano gli schermi per vedere bene le fotografie, esce questa macchia, questa fotocamera digitale, ma che anche questa non ha avuto un grande successo, mancava l'infrastruttura. E' un po' come chiedervi, pensate alla prima automobile elettrica. Siamo prima del Novecento la prima automobile elettrica e forse oggi stiamo incominciando a vederle. Perché la risposta non è la tecnologia, ma è se quella cosa poi funziona nel contesto in cui è stata lanciata e proposta. Altri esempi simpatici, il TV Fonino, non so quanti di voi abbiano avuto l'opportunità di guardare una partita su un oggetto con uno schermo grande, poco più di un francobollo. Siamo nel periodo quello dei mondiali 2006. Non ha avuto grandissimo successo. E poi l'ultimo caso che fa sempre sorridere è la tecnologia di Segway, che è stata in mille salse salvata e risalvata, ma con un triste destino fallimentare che non ha esattamente dato lustro a questa azienda. Ma in realtà la tecnologia è quella che poi è stata usata in futuro da altre realtà per fare gli hoverboard con cui i ragazzini si schiantano sugli spigoli dei mobili di casa. Ma e quindi la domanda che può sorgere spontanea è ma cosa significa innovare? E qui non vi svelo il nostro manifesto, ma vi svelo la definizione che dà del senario di Oxford, che spiega in modo molto semplice che l'attività di innovazione è quello di cambiare il modo in cui vengono fatte le cose. E questo può accadere attraverso nuovi metodi, nuove idee o prodotti. E qui, lasciatemi dire, arriva la seconda buona notizia. Cioè se la prima notizia è che l'innovazione non è solo tecnologia, la seconda buona notizia è che l'innovazione non è solo nel prodotto. E quindi la domanda che può sorgere spontanea dopo questa affermazione è anche quanti tipi di innovazione esistono. Abbiamo parlato di prodotto, tipicamente le persone pensano all'innovazione di processo, altri parlano di iniezione di tecnologia negli strumenti, che sì, ma in quel caso non è un tipo di innovazione, è una finalità. Nel 2013, quindi in realtà qualche anno fa, ma spesso si è un po' timidi nell'apprendere queste nuove metodologie, questi nuovi strumenti, Larry Keeley rilascia questo libro molto interessante che spiega quali siano i dieci tipi di innovazione. E quindi gli autori si sono, diciamo, si sono organizzati per studiare quanto e come si potesse innovare in modi differenti. Hanno identificato questi dieci tipi, che sono quelli che vedete sullo schermo in questo momento. Da una parte abbiamo tutto ciò che vedete in azzurro, che è la configurazione della nostra azienda. Tra virgolette il come funziona, dove troviamo il modello di profitto, quindi la parte di come facciamo a fare soldi. E qui potrebbe iniziare qualcuno di voi a strizzare l'occhio alle revenue stream del business model canvas. Parliamo di network, quindi. Quali sono quelle innovazioni che mi consentono di accedere a del know-how o a del valore che da solo non riesco ad avere, ma grazie ad un partner io posso riuscire ad abilitare. Qual è la struttura di funzionamento della mia azienda? Proprio il meccanismo, la governance interna. Posso innovare quello, ovviamente. Posso innovare il processo, lo abbiamo citato. Poi c'è la parte centrale, la parte gialla. Quella che, diciamo, un po' più scontata è legata all'offerta. E quindi il mio prodotto o, diciamo, i servizi complementari al mio prodotto. Ti vendo la macchina del caffè con le capsule e poi a un certo punto ti vendo anche il panno per pulire la macchina del caffè o il kit di riparazione. Questi sono il classico prodotto e il prodotto complementare. Poi esiste in realtà anche tutta una parte legata invece alla componente esterna e cioè a come il mercato percepisce noi e il nostro prodotto. E qui parliamo di servizi aggiuntivi, servizi addizionali, che è un po' diverso da quello che viene inteso nella colonna di Offering System. Kili, in questa parte, parla proprio di quei servizi che non sono collegati al core della nostra offerta. Per fare un esempio, se pensate a McDonald's che a un certo punto inizia ed inserisce il McDrive. Non è legato al mondo della ristorazione. Oggi noi lo vediamo come qualcosa di normalissimo. Cioè è ovvio che è normale entrare in un parcheggio e prendere un panino da un omino che ce lo dà attraverso una sorta di casello dell'autogrill. Ma quando quest'innovazione è entrata non era legata al settore del food. Questo è quello che Kili intende con Additional Services. Poi c'è la parte di canali. Innovare il come le persone sanno che esistiamo e come comunichiamo le persone. Innovare il brand. Come ci percepiscono? Siamo ancora l'azienda del 2004 o abbiamo innovato qualcosa della nostra identità? E infine, una cosa interessante, legato alla parte di Customer Engagement. Cioè a come noi ingaggiamo, entriamo in relazione con i nostri consumatori, con i nostri clienti. Guardando, e per ognuna di queste hanno fatto un bellissimo lavoro i ragazzi di Board of Innovation un paio di anni fa, nel 2018, guardando che cosa è stato fatto negli ultimi dieci anni. Questa slide, lì c'è effort. A me piace parlare di sudore. Cioè quanta fatica è stata fatta in termini di innovazione. Quindi i progetti di innovazione dove hanno visto le braccia e la fatica degli innovation manager e delle aziende. Tanta fatica, tanto effort nella colonna di offerta. In quella parte proprio di prodotto. L'innovazione di prodotto, quella a cui tutti siamo abituati a pensare. Un po' meno fatica, ma comunque sul podio, c'è la parte di sistema di offerta aggiuntivo. Quindi la parte di servizi. Poi, molto più modeste, ci sono delle innovazioni che riguardano la struttura, che riguardano i canali, c'è stato il digitale. E poi, molto più bassi, la parte di profit, network, engagement. Ma la vera domanda è, a voi interessa quanto sudate o il risultato che portate? Vi interessa quante ore spendete per fare una cosa o il valore che alla fine generate? Ecco, se andiamo a vedere il valore, che probabilmente è la cosa davvero più interessante, scopriamo che a livello accumulato il punto che genera più valore non è tanto il prodotto, che se guardate, anzi, è quello più modesto, perché un prodotto può essere copiato, perché un prodotto può essere obsoleto, ma la parte, o meglio, i tipi di innovazione che generano maggior valore, sono la parte di profit, quindi come faccio a guadagnare, revenue stream o cost structure, e network. Quindi, se faccio le cose da solo, posso fare determinate cose, se identifico dei partner strategici che mi aiutano ad aggiungere del valore, posso farne ben altre. E questo capite che, rispetto al nostro essere abituati a percepire l'innovazione come l'innovazione di prodotto, ci fa magari riflettere su quanto e come a volte possiamo fare tanta fatica, ma per ottenere un risultato che o non è duraturo nel tempo, o può portare molto meno valore rispetto ad altri tipi di innovazione che possiamo sviluppare. E sicuramente tutti adesso dicono, wow, bellissimo, bravo Daniele, che sogno, che viaggio, ma ragazzi, come si fa? Ve l'ho già accennato prima che qui si intravedeva un retrogusto di modello di business. Perché in realtà, se guardate quei dieci tipi di innovazione, scoprite che quei dieci blocchi in realtà parlano in modo molto, molto, molto vicino ai building block del business model canvas. O meglio ancora, ancora più bello, a combinazioni di building block del business model canvas. E quindi, se per esempio noi guardiamo la parte azzurra di configuration of the company, quindi come la nostra azienda funziona, se parliamo di profit model, stiamo parlando di innovare le revenue stream o innovare la struttura di costo. Inserire, per esempio, oggi è il momento storico delle subscription, dell'abbonamento. Vuol dire passare dal, ti vendo questo oggetto una volta e la seconda volta che te lo venderò, che cercherò di vendertelo, dovrò fare sicuramente nuova fatica, oppure io ti tengo abbonato nel tempo e continuerò a offrirti questo prodotto fino a quando tu rimarrai mio cliente abbonato. E Nespresso è stata una delle prime aziende a cambiare il proprio modello di business nelle parti di revenue, quando hai iniziato a vendere la macchinetta e poi le capsule. Oggi non solo ti vende la macchinetta e le capsule, ma te le vende in abbonamento. Quindi non mi interessa se consumi tanto o tantissimo caffè o poco caffè. Tu pagami una fee fissa mensile e io ti darò le macchinette del caffè. Qui ci sono un sacco di bellissimi progetti, c'è One Dollar Shelf Club, anche loro hanno fatto grandi numeri per poi essere acquisiti dal gruppo, mi pare da Gillette, per Billion, quindi siamo davvero a cifre stratosferiche, cambiando il modello di revenue. Poi c'è la parte di network, qui è facile perché si parla di partner chiave. Cosa posso fare se mi aggancio a un partner chiave senza il quale quella cosa non potrei mai farla? Pensate, per parlare abbastanza terra a terra, a un'azienda che decide di entrare in un nuovo mercato. Se non ho un partner chiave che mi aiuta, per esempio, con la rete commerciale, con la distribuzione, quanto è più complesso? E io posso innovare il mio mercato ed essere presente in quel mercato? Posso aumentare i miei customer segment senza avere quel partner chiave? È difficile. O quanto può essere più costoso rispetto a fare un'innovazione grazie a quella relazione? La struttura dell'azienda è legata a attività, risorse, potrebbe essere legato a dei partner, e poi ovviamente la parte di processo è legato indubbiamente ad attività, risorse e partner. Questo vedete come, quindi lavorando su questi primi quattro, abbracciamo già gran parte del business model canvas. Poi c'è la parte di offerta che è la value proposition, e quindi se noi vogliamo fare innovazione su quello che offriamo, significa che ci concentreremo sulla value proposition. La parte destra, invece, quindi la parte di percezione sul mercato, è quella che impatta sui customer segment, sulle relazioni e sui canali. Questo per farvi vedere, per farvi capire come il libro di Kili, in realtà, strizzi l'occhio al business model canvas, assolutamente sì, ma se guardate il business model canvas come oggetto da cui far partire qualcosa, potreste leggerlo in modo bidirezionale. Io uso un building block, faccio innovazione su quel building block, e questo può portare ad uno di quei dieci tipi di innovazione, o eventualmente anche di più. Proviamo a capire che cosa significa con alcuni esempi. Apple è stata un'azienda, ed è un'azienda, che ha fatto della relazione il suo cavallo di battaglia. Quando furono lanciati gli Apple Store, tutti presero per pazzo squinternato Steve Jobs, perché tutti dissero, ma scusami, sei un'azienda digitale, vendi prodotti digitali, hai il tuo sito, ho fatto benissimo, dove tutti acquistano lì, chi te lo fa fare di entrare nel mondo del retail? Eppure ci ha insegnato questo esercizio che se veicoli il giusto valore attraverso un brand molto forte e attraverso una campagna che parla ai tuoi customer segment in modo molto chiaro, quell'investimento, quasi in controtendenza a quello che sta facendo il mercato, dà dei successi. E qui la provocazione è sempre, beh, ma parlate sempre di Apple, parlate sempre di Amazon, parlate sempre di eBay. Ok, facciamo un salto a Monza, siamo a Monza Brianza. Berto Salotti, Filippo, caro amico, è una seconda generazione di questa azienda che produce salotti, quindi divani, sofà, materassi, letti. Io li ho conosciuti nel 2012, azienda artigianale, otto dipendenti a memoria, oggi ne hanno più di 40 se non erro, qualche vendita fuori dall'Italia. Filippo decide di aprire un blog, molto prima del 2012, in realtà, nel senso che io nel 2012 li ho conosciuti perché li ho visti sul digitale, decide di aprire un blog, decide di registrare dei video, caricarli su YouTube di come vengono fatti i loro prodotti, quindi channel. Decidono di realizzare un divano in modalità crowdcrafted, cioè invitando in laboratorio, e io e lì ho conosciuto Filippo, persone comuni a costruire e a co-costruire un divano, customer engagement. Quel divano poi doveva essere venduto ad un'asta benefica, in realtà l'azienda ha deciso di non venderlo all'asta benefica, ma fare una donazione. Ma pensate in questo modo che cosa è riuscito a fare l'azienda. Loro oggi fanno più del 20% di fatturato online, vendendo in tutto il mondo oggetti di arredo su misura. Pensate, l'online su misura, tutto questo lo fanno da Monza Brianza. Non è la Apple, ma è un'azienda, credo, almeno come una di quelle che potrebbe essere legata alla vostra esperienza. MyTaxi, oggi divenuto FreeNow, non so quanti di voi la conoscano, ma credo che tutti abbiate sentito parlare di Uber. Uber, diciamo, con tutti i problemi che hanno vissuto e nel nostro territorio e anche nel resto d'Europa, ha visto quale problema? Il problema di avere una lobby, quella dei taxisti, che si è messa di traverso rispetto allo sviluppo di questo progetto. Cosa ha fatto MyTaxi? Che è la stessa identica soluzione di Uber. Ha preso Network, un'agenzia di taxi, e se li ha tirati in casa. Attraverso questo semplice, banale processo innovativo, col senno di poi, ovviamente è tutto facile, ma pensatelo in quel momento, siete una startup che deve lottare contro i taxi. Che cosa fate? Ne tirate dentro una compagnia di taxi. Quasi controverso. Eppure ha funzionato. Ha funzionato e hanno innovato sia la parte di network che qualcosa a livello di processo. E ancora una volta, sì, ma le startup digitali, tutto facile, perfetto. Head Cleaners. Siamo a Madrid nel 2010. Non mi ricordo il nome della fondatrice di questa azienda. Nata nel 2010, quindi azienda giovanissima. La figlia con un problema molto banale, ma che c'è storicamente in tutte le famiglie, prima o poi, è quello dei pidocchi. Non so quanti di voi hanno avuto esperienza con i pidocchi, ma pare essere, io non ho figlie, non mi so dare questo feedback, ma so da altri amici, è un'esperienza abbastanza complessa. Oggi usiamo la parola quarantena molto spesso purtroppo, ma è la stessa cosa che accadeva con questi bambini e tutta la casa in realtà, perché il pidocchi non lo vedi, poi dal bimbo passano il fratellino, dal fratellino al cuginetto, a scuola non si può andare e così via. Perché la cura è una cura chimica che vendono alle farmacie e che non dà garanzia di risultato. Questa signora, attraverso un network, in realtà molto banale, un caro amico universitario, e attraverso un'innovazione di processo, ha creato questi negozi, l'equivalente di un parrucchiere, per farvi capire il layout, dove tu vai e invece che metterti una componente chimica, usano, semplifico, un borotalco che soffoca il pidocchio, quindi innovazione di processo, grazie al network, e che dà una garanzia al 100% di risultato. Questa azienda, nata a Madrid nel 2010, oggi e anche in Italia, mi sembra di ricordare, a Torino e ancora una volta a Monza, seconda volta che la citiamo oggi. Altro esempio, Spotify, struttura organizzativa. Spotify, per chi di voi non la conosce, al di là che conosciate, penso, l'azienda, ma non conosciate la struttura organizzativa, è come se avesse tante piccole aziende al suo interno. Molto simile, per esempio, a Board of Innovation, citata prima tra le fonti di alcuni di questi dati. Spotify genera dei micro team al proprio interno che possono muoversi e possono decidere alcune cose a livello indipendente da quella che è la governance generale. Pensate alla velocità di decisione e alla velocità di impatto. Quindi struttura e processo. Ho cambiato le attività, ho cambiato probabilmente parte delle risorse per poter avere un impatto. E ancora una volta, Spotify, ma dai, è troppo facile, perfetto. Qui non vi posso svelare quale sia il cliente, è un'azienda in provincia di Bologna, ma che con una business unit ha voluto iniziare a sperimentare questo tipo di meccanismo. E in particolare, abbiamo lavorato su come andare a rimappare il meccanismo di funzionamento di questa azienda. Quindi, ancora una volta, lo fanno le grandi corporate, ma in realtà lo fanno anche le aziende che stanno magari a 20 chilometri da noi. Qual è il motivo per cui non si raccontano quei casi? Uno, perché, come in questo momento, sono per esempio casi che non si possono citare. E due, perché, se parliamo di head cleaners, è molto più difficile, c'è un'inerzia alla comprensione, rispetto a parlare di Apple. Veniamo ad un altro caso, Amazon. Lo dicevo, no? Parlate sempre di Amazon, di Apple. Loro, con tutto quello che hanno fatto a livello digitale, ovviamente hanno lavorato tantissimo sulla parte arancione, sulla parte destra. Vi racconto di Sonos. Sonos è un'azienda che produce casse Bluetooth, casse wireless. Hanno aperto questo showroom, bellissimo, dove è tutto curato nel dettaglio, e tu, se vuoi acquistare una cassa della Sonos, entri in questo showroom. Pensate, ancora una volta, come Apple aprì gli store in un momento in cui il retail non era esattamente brillante. Sonos, un anno e mezzo fa, decide di aprire degli store ancora in un momento in cui tutte le vendite, Amazon, digitale e così via. Cosa accade in questo store? Tu entri, chiedi quale sia la cassa che è migliore per la tua condizione. Lo store è uno store, diciamo, mobile, in cui viene ricreato il setup della tua stanza, più o meno, quindi un divano, un tavolino, una libreria. Ti chiede il commesso dove vorresti mettere la cassa nella tua casa. Te la posiziona, ti fa sentire come suona. Magari se quella non è quella più adatta, te ne propone un'altra. Alla fine di tutto, quando dici, wow, bellissima, la compro. No, guardi, qui non può acquistare. Deve andare sul sito della Sonos e lì troverà il prodotto da acquistare. Se ci pensate, sembra folle questo passaggio. Eppure, sto veicolando due cose importantissime. Uno legato alla customer engagement, il secondo legato al brand, ho aggiunto un canale che prima non c'era, il retail, e ho aggiunto un servizio in più. A quanti di voi è capitato di andare, sparo, alla Media World per vedere se una cassa funziona bene e in realtà la state sentendo con altre 18 casse che stanno funzionando in parallelo dall'altro tizio con l'iPhone connesso in Bluetooth? È un servizio che non c'era prima. Loro l'hanno creato e lo stanno sviluppando e hanno questi retail shop. Diciamo, adesso non so con la situazione Covid come la stiano vivendo, ma è stato sicuramente un progetto che ha portato un'innovazione molto importante nella parte diciamo più destra. Poi c'è Netflix che ha fatto un bellissimo progetto su Instagram quando lanciarono il film Bandersnatch che interagendo con il film tu potevi decidere come andava avanti il film stesso. Grande campagna di comunicazione su Instagram, grande seguito, però ancora una volta parliamo di Netflix e non parliamo di aziende che conosciamo. Questa dubito che la conosciate, Lino Daniele di Bergamo, a bike, meccanico di motociclette. Quindi siamo veramente arrivati all'esempio più grounded che si poteva fare. lui ha sempre lavorato con appassionati di moto, clienti, molto adulti BMW, Ducati, Guzzi, quindi quel tipo di segmento di clientela, quel customer segment. E lui dice, sai, questi fino a quando avranno una moto? Sai, uno comincia ad avere un figlio poi vende la moto, la moglie che rompe le scatole vende la moto. Come faccio a garantirmi dei clienti anche per il futuro? Devo prendere dei nuovi customer segment, devo innovare i customer segment. Come faccio? ha cominciato sperimentando su Instagram a fare un po' di post, a fare un po' di storie con quale idea su Instagram difficilmente trovi il cinquantenne, sessantenne appassionato Guzzi. Ma trovi il ragazzo giovane con lo scooter, con il motorino, con la moto da cross e così è stato. E questa persona è riuscita a incrementare il proprio business del 20% semplicemente utilizzando una pagina Instagram ben fatta, molto casereccia, ma con quel, come posso dire, con quella passione, con quella capacità che gli ha consentito di acquisire nuovi customer segment e ovviamente anche di avere una crescita da un punto di vista di fatturato. una bellissima iniziativa di Lego, una delle piattaforme di open innovation più note dove l'idea è quella che se a te piacerebbe vedere a scaffale il modellino di Wall-E, il robottino Wall-E della Disney, della Pixar della Disney, scusatevi, non ricordo. Come fai che Lego non lo produce? Io da appassionato lo produco, io in casa lo faccio, da appassionato creo questo modello, lo carico su questa piattaforma, se 10.000 persone appassionate di Lego che stanno su quella piattaforma mettono un like, questo prodotto con una serie di processi entra nel processo di validazione di Lego per poi divenire un prodotto da scaffale. Oggi credo che siano 19 i prodotti realizzati attraverso questa piattaforma da Lego negli anni. Questo vuol dire ingaggiare i miei clienti, customer engagement, vuol dire fare un'innovazione a livello di brand. Cioè io non sono l'ego che decido io che cosa produrre dopo domani, ma lo sto dando a te quell'opportunità. Indubbiamente quest'innovazione impatta tantissimo anche a livello di network, di struttura e di processi. Ancora una volta l'ego è troppo facile da utilizzare, Catellani e Smith per chi non la conoscesse è un'azienda che produce lampadari, oggetti luminosi, a loro piace dire così, di design per una clientela altospendente. Catellani e Smith è un'azienda che ha sempre basato il proprio design su Enzo Catellani. Enzo Catellani giustamente si è posto una domanda saggia del tipo io fino a quando potrò disegnare e produrre lampade? Da lì è nata l'idea, l'opportunità di aprire la fase di design, di progettazione a dei designer esterni ma non andando ad assumere o andando a fare delle cose tradizionali ma andando a pescare per esempio su Kickstarter dei progetti interessanti di design di luminotecnica ingaggiando queste persone e chiedendo loro se avessero avuto piacere di portare quel prodotto all'interno dell'azienda stessa o ancora una volta ingaggiare delle persone attraverso delle competition di raccolta di spunti di idee e l'idea più brillante è farla diventare un prodotto che poi venisse prodotta e venduta in co-progettazione con quell'autore ecco questi sono dei progetti e vi ho voluto alternare dei progetti diciamo noti a dei progetti credo meno noti ma anche per farvi capire che si può fare e questo strumento può abilitare la generazione di innovazione proprio perché quella struttura a building block da un lato ci obbliga ad avere una struttura di pensiero su chi sono i nostri clienti qual è il motivo per cui vengono da noi qual è il valore che veicoliamo come riusciamo a guadagnare da loro attraverso quali canali ci conoscono e attraverso quali canali arriva il nostro valore quali sono le relazioni che ci tengono connessi a loro e dall'altra parte cosa dobbiamo fare di che cosa abbiamo bisogno in termini di risorse e partner e la struttura di costo innovare dieci tipi di innovazione significa che possiamo modulare i building block su cui fare innovazione e quindi riuscire ad avere l'opportunità di come posso dire a costo zero a rischio zero perché state mettendo e togliendo dei post-it immaginare degli scenari di innovazione grazie a per esempio l'inserimento di un nuovo post-it nelle risorse di un nuovo post-it nelle revenue stream è ovvio come vi dicevo nell'altro video che poi quel nuovo post-it va validato rimane solo un'opzione rimane solo una congettura però già metterlo lì ci obbliga a un pensiero che è quello di generare creatività su un contenuto è ovvio che poi ogni post-it che metto si porta dietro tutta una serie di connessioni quindi se aggiungo una revenue stream forse dovrò aggiungere una nuova risorsa una nuova attività questo è quello che vi volevo raccontare di relazione tra virgolette tra business model canvas e dieci tipi di innovazione se diciamo questo non vi basta e ne volete ancora e ancora ancora l'ulteriore modo con cui si può utilizzare il business model canvas a fini innovativi è quello degli epicentri di innovazione ci sono quattro epicentri di innovazione prima fatemi dire che cosa sono l'opicentro di innovazione è molto simile in realtà come meccanismo di analisi a quello dei dieci tipi però i dieci tipi di innovazione spiegano in che modo noi andiamo a fare innovazione e quindi per esempio l'innovazione di brand può impattare sulle risorse può impattare sulla value proposition può impattare sui partner e quindi con i dieci tipi di innovazione faccio una scelta strategica di obiettivo voglio innovare la parte di customer engagement come lo posso fare lavoro sulle relazioni lavoro sulle risorse lavoro sui partner quindi non è per forza detto che la parte di la parte arancione derivi solo dalla parte destra del canvas mentre l'epicentro di innovazione è proprio il punto di partenza da cui io genero creatività e nel quale io voglio generare nuove idee questo significa di fronte alla domanda innova il tuo modello di business rischia di essere iperampia e innova il tuo modello di business ma sforzati in un punto specifico e prova a generare dell'innovazione in quel punto e poi giochi simuli vedendo come l'innovazione è nata in quel punto poi si possa spostare anche sugli altri building block il primo epicentro è l'epicentro guidato dalle risorse che cosa significa l'epicentro guidato dalle risorse lo vedete un po' in questa slide c'è un punto chiave che siano le attività o le risorse o i partner nel quale noi generiamo creatività e quindi proviamo a fare un esempio siamo ed è quello che è successo siamo facebook abbiamo delle risorse che sono i nostri utenti che cosa possiamo fare cosa possiamo dare o meglio che risorse possiamo aggiungere sulla nostra piattaforma per cambiare qualcosa ma non sappiamo bene ancora cosa allora io comincio e dico ci metto una chat all'epoca non c'era la chat su facebook oppure che risorsa ci metto mettiamoci delle risorse di connettività e di scambio le stanze che stanno aprendo ora per fare concorrenza zoom il tool che stiamo utilizzando in questo momento mi serve della tecnologia quindi immetto della tecnologia in quel post-it e poi scopro che cosa accade per entrare in esempi più diciamo meno noti meno corporate siamo un'azienda che assume un nuovo designer o acquista un nuovo macchinario quello che tipo di innovazione è un epicentro che mi fa mettere un post-it nuovo sulle key resources ma poi quel post-it nuovo se non genera altri post-it quindi una nuova value proposition magari un aumento dei customer segment una nuova revenue stream rischia di essere un post-it che oltre all'appiccicarlo nelle risorse si porta dietro dei costi e basta utilizzare questa metodologia cioè quello dell'epicentro guidato dalle risorse ci fa capire quanto e come investire in qualcosa possa impattare da un punto di vista potenzialmente di mercato e non solo da un punto di vista di costo idem l'accesso a un partner che prima non era un mio partner che cosa succede se io decido di collaborare con e qua se volete c'è l'esempio che vedevamo prima di MyTaxi che cosa succede se decido di avere nei partner qualcuno che fino a l'altro ieri ero mio competitor come impatta sul mio modello di business cosa devo cambiare cosa dovrò raccontare in termini di comunicazione che relazione instaurerò con i customer seguente e così via l'epicentro di innovazione quindi rappresenta il punto di partenza il primo diciamo è anche il più da un lato rischioso perché è quello che se non viene fatto in modo oculato si porta dietro tanto investimento su risorse e poco ritorno perché se non simulo bene quello che dovrà essere l'impatto sulla parte destra del mio modello di business mi porterò solo dei gran costi e però è sempre quello che hanno fatto le aziende compero tecnologia compero il tornio assumo una nuova persona ma se non ho chiaro qual è il valore che genererà questa risorsa e soprattutto come se i customer segment questa risorsa la valorizzeranno rischia di diventare un investimento importante che non porta porta effort quella famosa grafico quel famoso histogramma porta effort ma non porta valore l'altro epicentro è quello guidato dal mercato questo invece è interessantissimo perché significa riuscire ad arrivare a dei customer segment che prima non avevo pensate a bike al meccanico che dai customer segment cinquantenni appassionati di moto arriva a prendere i diciottenni con la moto da cross se li aggancio bene quei customer segment magari rimarranno con me per molti anni se li aggancio bene quei customer segment faranno dei passaparola molto ampi se li aggancio bene quei customer segment attraverso i loro canali racconteranno di me ai loro amici o io posso addirittura ingaggiarli dicendogli e chiedendogli racconta di me ai tuoi amici e io in questo modo amplifico i miei customer segment e questo succede quando riesco a innovare sul customer segment sui canali o sulle relazioni oggi in questo momento storico di fronte a quello che stiamo vivendo con questa pandemia con questa situazione con questo lockdown con questa fase 1 fase 2 fase 3 il canale è un punto di svolta questo che stiamo vivendo è l'esempio storico le lezioni i training online li potevamo fare da 10 anni 15 anni ma non li abbiamo mai fatti un po' per pigrizia un po' per mille altri motivi ma adesso abbiamo visto che si può fare e se non impariamo ad abilitare questo canale rimarremo indietro e guai a chi dice non vedo l'ora di tornare a come era prima guai a chi non riesce a portare a casa il valore aggiunto che sta emergendo in questo momento storico perché ci sta dando delle opportunità che in altri momenti storici abbiamo sempre avuto e non abbiamo mai valorizzato pensate adesso sto parlando con alcuni ragazzi che lavorano nel mondo diciamo del delivery lasciatemi dire così non voglio svelare troppo ma stanno identificando delle sacche di valore inespresse a livello proprio di poterti far avere un prodotto senza che tu ti debba muovere e qui però non vuol dire alimentare l'odio verso Amazon da parte dei commercianti no sono i commercianti stessi che in questo momento hanno l'opportunità attraverso il channel di raggiungere dei nuovi customer perché se io adesso devo andare a fare la coda per ogni cosa ma preferisco che mi arrivi qua il mio prodotto il mio servizio che ho acquistato e il negozio di scarpe che deve dare il guanto usa e getta al cliente ogni volta che il cliente vuole provare le scarpe pensate ai costi e all'impatto logistico e alla coda che fa fuori ma se invece io ti mandassi al tuo domicilio due paia di scarpe o tre paia di scarpe come fa Zalando quelle che non vanno bene me le ridai io le sanifico e le rimetto in vendita zero code esperienza ottimale e magari vendo di più e vendo a dei customer segment che prima non avevo ma questo i commercianti non riescono a vederlo ma eppure è lì è lì davanti a loro ed è un'opportunità gigantesca ma la reazione è sempre quella del no è digitale ci rubano i clienti Amazon è il come posso dire è il demonio di quello che è stato adesso la digitalizzazione in realtà no è una grande opportunità e spero che in tanti riescono a cogliere che cambieranno anche tante abitudini di consumo stanno già cambiando sono già cambiate e non vederle o aspettare che torni come era prima è rischiosissimo il terzo epicentro di innovazione è quello guidato e qui torna i dieci tipi la parte di revenue business model inteso proprio come modello di business modello di revenue la parte di revenue stream e struttura di costo che cosa significa revenue stream e struttura di costo significa innovare le revenue e vi ho fatto prima l'abbonamento l'esempio dell'abbonamento è verissimo ma posso anche innovare la parte di costo quando si innova la parte di costo quando si almeno azzera un costo almeno azzera vuol dire che io posso anche guadagnare da quel costo e attenzione sto parlando con un sacco di aziende che hanno sempre regalato la consulenza è un'azienda che magari produce questo oggetto in conto terzi e quando lo progetta quando definisce i materiali quando definisce un sacco di caratteristiche di questo oggetto lo fanno con una consulenza che storicamente hanno sempre regalato quella consulenza ha un costo e la risposta non può essere quella del non la faccio più posso decidere valorizzandola in modo corretto e se il customer segment la valorizza di trasformare quel costo in una revenue e a quel punto non venderò più solo il prodotto ma venderò un servizio di realizzazione di questo prodotto ed è anche quello un passaggio interessante e ci sono un po' di casi che stanno iniziando ad approcciare questo tipo di come posso dire non tanto di metodologie ma proprio di formamenti anche di educazione del proprio cliente Ikea ha stravolto il proprio settore trasformando un costo prima annullandolo il costo dei montatori dei mobili Ikea l'ha annullato e poi l'ha trasformato in una revenue se vuoi che un mio dipendente monti il mobile che hai comprato da me lo devi comprare scusatemi bello della diretta l'altro epicentro è quello invece legato all'offerta che è quello più noto è quello più scontato ma che cosa succede? succede che ci dimentichiamo a volte che innovare un prodotto un servizio impatta come una goccia che cade in una in una pozza impatta su tutto il modello di business e quindi è rischiosissimo immettere semplicemente il dire mettiamo un nuovo prodotto mettiamo un nuovo servizio che se non lo gestisco in questo modo e cioè simulando l'immissione di un nuovo servizio cioè un nuovo post-it come questo post-it impatti sul resto del modello se non faccio questo lavoro faccio la fine dei google glasses faccio la fine del del videofonino faccio la fine del segue è lì l'errore cioè l'errore di buttare un prodotto sul mercato buttare una value proposition senza capire se A interessa a qualcuno customer segment B come faccio a venderla come faccio a sapere che esiste channels come faccio a mantenere la relazione con quei nuovi clienti o vecchi clienti relationship guadagno o non guadagno da questa value proposition revenue stream e poi tutta la parte di fattibilità mi servono delle risorse che non ho per fare questa cosa devo fare delle attività che prima non facevo e quindi magari mi servono ancora una volta delle risorse o dei partner e soprattutto si porta dietro dei costi questa iniziativa sembra una banalità fare queste domande ma credetemi ci sono tante aziende che purtroppo incappano ancora in questo in questo errore in tutto questo racconto in tutto quello che è la definizione di innovazione manca ci siamo accorti quantomeno cioè rimanendo sul business model canvas rimanendo su quei nuovi blocchi dando l'infrastruttura quindi gli strumenti per poter generare un sacco di contenuto un sacco di post-it un sacco di opzioni di idee ci siamo accorti che l'innovazione non sempre riesce ad accadere perché manca un ingrediente noi ci siamo ci siamo posti alcune domande e cioè rispetto a questa definizione quanto e come ci fossero tutte questi dettagli cambiamento metodi idee prodotti negli strumenti a cui abbiamo accesso cioè business model canvas e tutta una serie di infinità di altri canvas e altri tool che oggi sono disponibili e la vera parola chiave che manca è il cambiamento il cambiamento è uno quella pericolosissima frase del abbiamo sempre fatto così c'è un'inerzia al cambiamento che è madornale e dall'altra parte invece è quello che abilita davvero l'innovazione perché l'innovazione lo vediamo qui è cambiamento e ci siamo chiesti se esista una formula per il cambiamento di successo e qui arriva la mia deriva ingegneristica un po' così da formula e da struttura e ci siamo accorti che non c'è una formula del cambiamento di successo e in realtà quella che noi proponiamo è più una provocazione perché non può essere una formula però nell'esperienza degli anni abbiamo capito che secondo noi la qualità del cambiamento quindi un cambiamento di qualità deriva da diversi fattori il primo è il contenuto la tecnologia le idee le persone con cui faccio i workshop di generazione creativa quindi di mettere nuovi posti il contenuto è proporzionale all'engagement all'ingaggio perché il cambiamento calato dall'alto non funziona più non funziona più il cambiamento deve essere co-generato dalle persone che poi saranno parte di quel cambiamento e vedete c'è un numeratore vuol dire che c'è anche un denominatore il denominatore è legato all'intervallo di retrospettiva quindi tanto più quel numero è piccolo e l'intervallo di retrospettiva vuol dire fermarsi guardare che cosa sta succedendo rispetto all'ultima volta che ci siamo fermati o abbiamo deciso dove andare e decidere se quello che stiamo facendo è allineato al nostro obiettivo o no lo potremmo chiamare mille modi stato di avanzamento lavori momento di revisione del progetto chiamatelo come volete però quello è l'intervallo e poi ci sono i numeri di retrospettive che in questo caso è inverso perché tante più retrospettive facciamo quindi tanti più momenti inseriamo tanto più è piccolo quel frammento di errore che ci può essere tra il volevo andare volevo andare qui e sono arrivato là quante volte vi capita di iniziare un progetto o iniziare la giornata pensate oggi devo fare A, B, C, D e la giornata finisce che avete fatto D, E, E, F e questo accade perché non avete mai fissato un momento di check per dire ok cosa dovevo fare è successo quello che avevo in mente di fare sì no se non è successo ne sono consapevole vado avanti o cambio la direzione questo è un po' per descrivervi quello che ci sta a quel denominatore lasciatemi spendere gli ultimi minuti per raccontarvi che cosa sono quegli elementi il contenuto e qui cito Robert Rasmussen fondatore della metodologia Lego Series Play è assimilabile alla conoscenza e fatto questo triangolo come posso dire la rappresentazione della conoscenza c'è una conoscenza esplicita se vi chiedo due per due minuti e quattro quello arriva dalla conoscenza esplicita e c'è una conoscenza implicita e invece non so l'idea geniale che vi viene mentre state guidando quale conoscenza che c'è già ma è implicita è intuitiva la stessa cosa c'è nelle aziende la conoscenza esplicita sono i processi le procedure l'organigramma quello che pensiamo che debba essere il vero meccanismo di funzionamento e poi c'è la conoscenza implicita quindi scopri che Claudio invece che chiedere informazioni al suo capo al suo responsabile ogni volta chiede informazioni a Martino questa cosa non c'è scritta in nessuna procedura non c'è scritto nessun organigramma ma succede è implicito è istintivo di quel sistema Robert Trasmus dice che per tanti anni la consulenza tradizionale ha lavorato su quel triangolo di esplicito c'era la procedura cambiamo la procedura c'era l'organigramma cambiamo l'organigramma c'è qualcosa che non funziona analizziamo il processo per come è e mappiamolo e mettiamo una nuova procedura lui dice che se vuoi davvero e questo non impatta sulla crescita del contenuto esplicito se vuoi far crescere il contenuto esplicito devi raccogliere dal basso e trasformare quell'implicito in esplicito e l'unico modo è coinvolgere le persone come le coinvolgi? Le coinvolgi con l'ingaggio le coinvolgi usando degli strumenti che non sono la classica riunione in cui c'è la persona che spiega e che dopo tot minuti vedi tutti i colleghi chi ha aperto il computer chi guarda le mail chi pensa alla lista della spesa non funziona più le persone si annoiano soprattutto in questa dinamica in questa dinamica digitale non può funzionare più così e quindi ci sono per esempio i post-it i canvas le dixit card quelle sono delle card che servono per aumentare un po' lo stimolo creativo ci sono gli story cubes che sono dei dadi dei dadi con delle immagini come vedete che aiutano la parte di storytelling generazione di idee racconto di come potrebbe essere il nostro prodotto e così via c'è l'ego serious play che è un'altra metodologia interessantissima con cui attraverso il mattoncini io riesco a raccontare un'esperienza o riesco a raccontare come dovrebbe essere il mio prodotto o come dovrebbe essere l'identità della mia azienda qual è il problema e qui diciamo è quello che abbiamo imparato noi in questi mesi come l'esempio di cambio di modello di business lo stiamo vivendo noi cioè come fai a fare tutte queste cose che vi ho appena raccontato bellissime fighissime le carte i dadi lego oggi o quantomeno fino a quando non ci saranno delle opportunità di tornare in una sala come state vedendo in questa immagine che cosa facciamo esistono un sacco di strumenti e qui torna la risposta credo Paola se mi ricordo bene al come fare queste attività oggi esistono degli strumenti quello che vedete per esempio in queste immagini si chiama Mural M-U-R-A-L esiste anche Miro e sono delle board digitali dei fogli bianchi dove voi potete mettere tutto quello che volete e collaborativamente quindi più persone stanno su quella board come se fosse una lavagna appesa mettono post-it spostano post-it si confrontano magari nel frattempo parlano su zoom come stiamo facendo noi adesso infatti c'è lì sotto il team di studenti con cui ho lavorato nel fare questa attività e generano un sacco di cose lo facciamo con quello che intravedete lì è un business model canvas ma la realtà è che ci potete mettere sopra tutto quello che volete volete parlare di vision c'è il vision canvas volete parlare di innovazione sono le quattro lenti volete utilizzare legacy display diciamo se già conoscete la metodologia si può fare anche quello la realtà quindi è che è obbligatorio fermarsi analizzare il proprio modello di business e capire come la situazione attuale possa essere o possa darvi l'opportunità di intravedere qualcosa da urtare nella vostra azienda o dalla vostra azienda a veicolarla verso l'esterno e generare del nuovo valore perché noi in questo modo stiamo generando un nuovo valore per noi indubbiamente e per gli studenti per esempio faccio lezioni in università faccio lezioni in talent garden e all'inizio l'alternativa era non facciamo lezione ma come fai a fermare il mondo della formazione non facendo formazione ti devi adeguare devi rivedere i programmi devi rivedere gli strumenti e imparare a fare un lavoro nuovo se oggi voi mi doveste chiedere torneresti a fare lezioni in aula e penso alla vita dei miei studenti che magari arrivano dalle nostre valli bergamasche e si fanno due ore di viaggio in Pullman per venire in aula io direi no direi no perché dov'è il valore aggiunto nell'essere seduti su uno sgabello tra l'altro scomodo a sentire una persona che è l'equivalente dell'essere qui ecco questi sono i messaggi e sono le cose che si possono fare con il business model canvas come infrastruttura sottostante che viabilita all'inserimento di altri contenuti o addirittura come i dieci tipi i dieci tipi di innovazione all'integrazione con altri approcci altre metodologie il business model canvas è una mappa nella quale voi potete scrivere cose vere di oggi e quindi fare la fotografia o immaginare delle cose che potrebbero essere domani con un grande vantaggio che state simulando state giocando quindi due mesi fa vi sarebbe costato qualche post-it oggi non vi costa nemmeno più qualche post-it perché i post-it sono diventati digitali e sono gratuiti credo che questa sia una grandissima opportunità per consentire a tutti di comprendere quale sia il valore che offro quali siano i miei potenziali o attuali clienti e perdonatemi se lo ripeto perché vengono da me e non da un competitor cioè che cosa ho io nella mia value proposition nelle mie risorse nelle mie attività che gli altri o non hanno o non fanno come faccio io io spero di avervi dato un po' di input stimoli diciamo dato delle idee su come il business model canvas possa essere usato come trampolino di lancio per la generazione di idee contenuti tutte cose che poi però devono essere come vi dicevo anche alla fine di quel video validate cioè non assumetevi la responsabilità di dire che siccome ho scritto questo post-it questa cosa è vera questo è un passaggio importantissimo che va fatto direi di andare se siete d'accordo chiudere la condivisione così se ci sono domande e risposte lo possiamo lo possiamo vedere di là e ora allora vi leggo le domande quindi vado live sulle domande per darvi le risposte in questi ultimi minuti per riuscire almeno soddisfare la vostra curiosità Paola esatto sì quindi la domanda era esistono business model canvas compatibili online e modificabili con modalità colore post-it Mural vi dicevo è una delle potenzialità Miro è un altro strumento poi potreste semplificarla all'ennesima potenza prendete un prendete un documento Google di PowerPoint invitate più persone e fate dei rettangoli in realtà quello è diciamo abbastanza abbastanza semplice ci sarà il video della sessione di Daniele quando lo metterà in rete questa è una domanda alla quale non so rispondere quindi credo che Stefano o i ragazzi di rinascita digitale vi potranno dare un aiuto di sicuro il video del business model il business model canvas sì questo invece non vi so non vi so ancora dare e Daniele eccolo vengo al volo vai vedevo un recording esatto vedevo un recording ma non volevo fare dei teasing no giustamente no se entra a distanza di qualche giorno poi la pubblica mi sono canale YouTube per cui assolutamente si sarà presente ti lascio andare a te in autonomia in chiusura finisco due cose e poi arrivo oh yes allora quindi Raul arriva al video tra un po' di giorni quando lo sistemano poi atteso che l'emergenza ha variato molti bisogni dei clienti è consigliabile partire sempre dal cliente e dai suoi desiderati variati oppure si proverebbe a immaginare una riconversione adattando la propria proposta di valore ad un nuovo segmento di clientela guarda sono vere tutte e due Maria Rosaria nel senso che pensate e sto ragionando adesso con un'azienda il mondo dei gommisti quindi mondo molto vicino oggi andreste voi a portare la macchina dal gommista con la persona che sale si siede sul vostro sedile tocca il vostro volante tocca la vostra portiera starnutisce sia la mascherina ma chissà con la tuta dove si è seduto e quindi qual è il bisogno del mio customer segment anche quello vecchio quindi non sto parlando dei nuovi customer segment qual è il bisogno cosa posso fare magari il mio modo di lavorare cambia ma l'offerta è sempre quella tu vieni qua a cambiare le gomme ma quello che ti racconto in termini di esperienza invece che stampare la fattura per esempio è una cosa stupidissima ma l'ho visto succedere la ragazza della cassa prende il foglio stampato e lo dà al cliente la soluzione è stata banalissima giro la stampante verso il cliente così il cliente se la prende lui sono micro soluzioni ma che possono impattare sull'esperienza del vostro cliente e sul quanto e come cambi la sua percezione di valore quindi in questo caso di sicuro partire dal cliente nel senso che è un qualcosa di rilevante non per forza quel cliente che analizzate è il cliente che avete oggi decidete di digitare siete una pizzeria e decidete di digitalizzare la vostra offerta da un lato avrete i vostri clienti ai quali dovrete dire che c'è questa nuova opportunità ma quanti altri clienti potreste raggiungere i casi sono due o andate su una delivero di turno e quindi vi trovano su questa piattaforma che è diventato un marketplace o sapete che dovete investire in digitale e farvi conoscere attraverso quei canali prendendo dei nuovi segmenti di clientela per esempio se oltre a problemi contingenti la proposta di valore avesse problemi strutturali cosa conviene fare? questa è una domanda che non riesco a comprendere in modo molto molto nitido cioè se oltre a problemi contingenti la proposta di valore avesse problemi strutturali cosa conviene fare? è un tema di fattibilità mi verrebbe da rispondere così cercando di tradurre per me la tua domanda quindi devo capire se attraverso dei partner chiave io posso risolvere quei problemi strutturali oppure pensate alla scuola agli asili quando c'è stato il primo lockdown un'amica che ha il bimbo all'asilo che ovviamente è chiuso non poteva andare all'asilo l'asilo è stato uno dei primi ad aprire un piccolo canale facebook in cui raccontavano le storie ai bimbi c'è un problema strutturale? sì certo non puoi aprire l'asilo posso fare qualcosa uso un nuovo canale aggiungo un nuovo servizio che è quello di raccontare delle storie che magari non era quello che veniva fatto all'asilo all'asilo potevano fare altre cose giocare insieme fargli fare delle esperienze vivide cioè essere lì aggiungo un nuovo servizio aggiungo un nuovo canale e questo mi mi mantiene in relazione con il mio cliente non so se ti ho risposto Maria Rosa spero di sì Giuseppe ciao ho visto un nome noto versione di business model canvas per social enterprise o no profit esiste proprio il social business model canvas alcune varianti nei building block parla infatti anche di il link yes dopo lo giro in chat intanto lo vado a recuperare ha proprio due come posso dire due piccole varianti di di building block perché parla anche di value non solo per per la parte di customer segment ma anche per la diciamo la società e quindi questo è sicuramente qualcosa di interessante dopo vado a cercare il link vedo qualcosa anche nelle nella chat e non solo delle domande voglio rivedere con calma grande grande Raul yes esistono delle versioni di business model per le aziende no profit ok era la stessa domanda dici che oggi preferisci fare in remoto quello che facevi ieri in aula ma non trovi che il remoto riduce dei canali sensoriali che hanno uuuu assa bravissimo bravissimo Raul ne parlavo ieri con un collega c'è un grosso ecco come tutte le cose pro e contro qual è il grosso difetto per esempio in questo momento non vi vedo non so se ci sono persone che si sono addormentate durante il mio talk o ci sono persone che stanno alzando la mano e non hanno tempo o voglia di scrivere questo è uno dei pain di questo di questo modello e te lo sta dicendo una persona che con i workshop di Lego Serious Play sei proprio lì che vedi tocchi gli stessi oggetti con i partecipanti mi manca assolutamente sì mi manca ma se questo può generare del valore aggiunto forse maggiore perché davvero io ho fatto la battuta prima dei miei studenti all'università che si fanno due ore e mezzo di tre ma è così e onestamente se devo pensare al beneficio di Daniele che può percepire alcuni messaggi diciamo paraverbali o non verbali dei miei studenti rispetto a dieci studenti che possono dormire due ore in più non si fanno due ore e mezzo di viaggio non rischiano nel tragitto casa scuola casa università non lo so sono diciamo di sicuro può aver senso un'integrazione tra queste due soluzioni ecco questo lo intravedo e alcuni stanno già pensando a questo tipo di soluzione però la sola o meglio finalmente che abbiamo scoperto di quante cose possiamo fare con il digitale sarebbe davvero un peccato al apro due virgolette gigantesche al quando torneremo come prima mio commento che può lasciare il tempo che trova difficilmente torneremo esattamente a tutto quello che era prima allora poi abbandoneremo questi strumenti io mi auguro di no io mi auguro che comunque anche solo per quanto ci sono costati in termini di esperienza cioè quanto ci è costato dover imparare queste cose non tanto il tempo per impararle ma quello che è successo nelle nostre città se non riusciamo a trarre qualcosa di bello di buono da portarci via da questa iniziativa rischia di essere solamente un qualcosa di drammatico lo è stato lo è tuttora però l'augurio è quello di riuscire sempre a cercare di vedere anche l'altro lato della medaglia e il mio lato della medaglia è quello che questi strumenti abilitano sicuramente a noi ma anche ai nostri clienti e anche lo dicevo prima all'esercente della via abilita delle cose che prima poteva fare ma non aveva mai fatto il vantaggio è che oggi siamo pronti ad accettare questo tipo di questo tipo di diciamo di strumento mi hai convinto no no non volevo non volevo convincerti Raul però davvero ci ho riflettuto tanto perché a me manca il fisico ragazzi io andavo davvero una delle cose per cui mi sentivo sempre leggere nei feedback è l'energia che c'era nell'aula bellissimo mi sta salendo la pelle d'oca adesso nel raccontarlo però cosa fai non puoi farlo c'è un limite e forse torna la domanda di prima cioè è strutturale non puoi farlo allora devi trarre tutto quello che di buono c'è nella soluzione di oggi e da lì puoi costruire qualcosa di nuovo si potrà fare qualcosa di nuovo di ingaggiante anche con questi tool sì noi integriamo tanti strumenti Mentimeter per fare le survey online le poll di zoom per farle in diretta ci sono un sacco di cose che si possono fare comunque per rendere bello un rapporto digitale lasciatomolo chiamare così vanno studiate e vanno fatte i bei conflitti d'aula nel web li vedo difficili e non possiamo insegnare come gestirli dando l'esempio beh sì dipende dal numero di persone che hai in aula sono d'accordo assolutamente sì io ho sempre invitato i miei studenti al dibattito al confronto però in realtà anche adesso stiamo vedendo che qualcosa si può fare questo è un è un meccanismo di funzionamento a webinar e quindi non vediamo le nostre facce non c'è l'iterazione con voi lato microfono ma se parlate di un'aula di 20 persone 30 persone io le mie lezioni le faccio come le call su Skype quindi i miei studenti mi parlano io li vedo ci parliamo quindi in realtà anche lì un po' riesci a lavorarci assolutamente sì abbiamo fatto insieme in aula un'esperienza di Anna ciao ma che bello fantastico abbiamo fatto una grande esperienza eh sì 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 ce la faremo ce la faremo ragazzi io non voglio più che altro sono le 14.59 non voglio rubare lo stage al prossimo quindi non vorrei non so qui quanto e come abbiamo margine che bello sapere che l'UNIG sta sfornando tanti talenti Fabrizio eh sì guarda ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando da ex laureato un IBG e docente ci divertiamo è un orgoglio io devo dire la verità ero molto pauroso dei nostri del nostro del mondo accademico in pochissimo tempo il 99% dei corsi è andato online in meno di una settimana davvero molto bravi poi magari la link in mail bellissimo workshop grazie grazie Giuseppe purtroppo devo andare a scartabellare nelle mie cartelle e mentre faccio quello rischio di non dare l'attenzione quindi lo metto magari in chat dopo tanto rimango dentro rimango dentro qualche minuto in più quando finisce lo metto in chat così rimane per tutti stiamo parlando del del canvas per il social business model non so se ci sono vado a riaprire il question and answer se c'è qualcos'altro che non ho visto intendo se il lockdown ecco Maria Rosa ha chiarito la domanda grazie se il lockdown ha aggravato una situazione strutturale in cui fattibilità sostenibilità della proposta e valore già funzionavano male ah ok ragazzi sì diciamo che il lockdown in alcuni casi adesso dico una cosa magari un po' forte ma è come quando nel nostra provincia poi chiudo Stefano sono di Bergamo Bergamo per tantissimi anni la valle seriana è stata la valle dell'oro per mondo del tessile no? un sacco di famiglie che sono veramente hanno vissuto grandi anni poi a un certo punto le aziende hanno scoperto che esistono fornitori internazionali e hanno smesso di vendere da Val Gandino alla Val Seriana dalla Seriana alla Val Gandino e le aziende sono morte il problema era a monte non è stato un danno strutturale è proprio un tema di visione e di modello di business quindi il rischio sì è che questo momento abbia portato magari a una chiusura o al fallimento di alcune attività alcune ragazzi si vede si legge sui giornali sono situazioni veramente da panico e guai dire che non lo sia in altri casi invece ci potrebbe essere una una visione un po' limitata da parte dell'imprenditore o del management per cui qualcosa che non funzionava prima rischia di non funzionare per niente oggi questo sì ok Daniele chiaro 15.01 dai ce l'ho fatta no 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 assolutamente ma tranquillo tanto il prossimo intervento è il mio infatti mi hanno avvisato quindi ho detto ah ok va bene posso rubarmi il tempo senza problemi grazie così così si fa fantastico grazie